Uomini e donne, anticipazioni 20 e 24 Riccardo volta pagina, Federico assente. L'appuntamento con uomini e donne è confermato nel corso della settimana che va dal 20 al 24 febbraio 2023 con nuove attesissime puntate su canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri. Pronto ormai a voltare pagina definitivamente, per l'ennesima volta. Spazio anche alle vicende di Armando che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show, finirà per scatenare l'ira di Gianni Sperti, pronto ad attaccarlo e bacchettarlo in studio. Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste fino al 24 febbraio 2023 su canale 5 rivelano che tra Gianni e Armando si riaccenderà di nuovo lo scontro. Dato che l'opinionista non si farà problemi a puntare il dito contro il cavaliere napoletano. Il motivo? Secondo Gianni, Armando non sarebbe interessato a nessuna nuova dama presente nel partere e sottolineerà il fatto che ormai sono anni che il cavaliere napoletano è presente in studio senza mai portare a compimento una scelta finale. Insomma, Gianni non si farà problemi a smascherare Armando, evidenziando il fatto che il cavaliere starebbe quasi perdendo tempo in studio. Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri, dopo l'addio a Gloria e dopo il confronto serrato con Ida Platano. Per il cavaliere pugliese arriverà il momento di voltare pagina per l'ennesima volta. Durante le ultime registrazioni di questa stagione, Riccardo ha avuto modo di conoscere meglio la dama Michela, le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse fino al 24 febbraio. Rivelano che la frequentazione tra i due giungerà già al capolinea. Sarà Riccardo a prendere in mano le redini della situazione, tanto da decidere di voler chiudere questa conoscenza con la dama. Brutte notizie in arrivo anche per Ivan, che si ritroverà a dover fare i conti con un triplo rifiuto, non solo quello di Resdemona e Paola, ma anche il 2 di picche da parte di Tina Cipollari. E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda fino al 24 febbraio in tv. Rivelano che non passerà inosservata l'assenza in studio del tronista Federico Nicotera. Ormai manca sempre meno per la sua fatidica scelta finale, nel corso dell'ultima registrazione. Il ragazzo non ha partecipato alle riprese del talk show, a differenza di Lavinia e Nicole che erano presenti in trasmissione, ma non si è parlato dei loro percorsi sentimentali. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul-i moda ori, nu? Așa-i, și zici că stom ford, la cum mă comport, în treaba asta nu-i loc de confort, ricord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să mă auz prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari, zi-mi tor. Că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau și-o scarul mare.